Un gol per l'autismo. Domani lo stadio adriatico Cornacchia di Pescara ospiterà la partita Un Sogno nel Cuore. Saranno presenti tantissimi personaggi famosi tra calciatori, influencer, cantanti e attori. Tutto il ricavato andrà a favore di We Out, una struttura che si occupa dei bambini e dei ragazzi autistici dai 6 ai 14 anni. Il calcio d'inizio è fissato alle 16 ma già dalle 15 e in programma uno spettacolo da non perdere con tante sorprese. Rete 8 è media partner dell'evento. Sull'iniziativa sentiamo Alessandro Arena, presidente della Nazionale Azzurri. La causa è nobilissima e per i bambini autistici i fondi che recupereremo dallo stadio li utilizzeremo totalmente per We Out, che è una struttura per i bambini autistici dai 6 ai 14 anni e sarà solamente, speriamo, la prima di una lunga serie di strutture che faremo in Italia. La struttura praticamente verrà costruita a Fiumicino, dove abbiamo già individuato un'area di circa 6.000 metri quadrati. Ci saranno delle pedane sportive dove i bambini autistici andranno ad aumentare la loro psicomotricità attraverso lo sport. Quindi le autosufficienze motorie ma soprattutto cognitive. A questo sogno nel cuore parteciperanno tanti personaggi famosi. Ci saranno dei calciatori mondiali, ci sarà Mattusalemme, ci sarà il campione del mondo di Beach Soccer del Brasile, poi ci sarà Oddo che è di casa, il mister, poi ci sarà Deddy, Valerio Mazzei, il 3, poi ci saranno gli amatissimi di Amici, ci sarà Cristian, ci sarà Zechila, ci sarà Critical che è di Pescara, Calma e tanti e tanti altri. Vi aspettiamo veramente in tantissimi. Un'ultima cosa, questa è la classica partita in cui vincono tutti. Sì, sicuramente abbiamo già vinto perché come vedete c'è la maglietta di We Out che è un sogno che noi vorremmo realizzare insieme a Pescara. Sappiamo che Pescara ha un cuore gigante, quindi chiedo a tutta la cittadinanza di venire in massa allo Stadio Adriatico. Sì, sicuramente vogliamo fare un attento. Ci saràaretto.